Abbiamo chi si può permettere di rifiutare di andare a svolgere un ruolo che è quello appunto un ruolo di pubblico servizio, quindi non so se effettivamente a questo punto sollecitare l'ASL nell'adottare delle iniziative in questa direzione, perché altrimenti è uno scenario che noi staremo qui, lei ci continuerà ad invitare e avremo sempre lo stesso problema, perché da che io frequento i carceri da diversi anni, questo è un problema che effettivamente diciamo continua e anzi abbiamo poi episodi come quello non di qualche giorno fa, ma di qualche ora fa a Bellizio Irpino, dove alcuni agenti di polizia penitenziaria sono stati diciamo trattenuti, picchiati, quindi la situazione è veramente drammatica. Interruzione di pubblico servizio, potrebbe essere questo il reato e quindi il motivo per precettare, questo è l'invito che arriva, la provocazione. La provocazione, l'invito insomma non sono un organo di pubblica accusa, quindi è chiaro che insomma non posso sostituirmi, però evidentemente c'è un problema di carattere diciamo locale, un problema molto grosso, intorno al quale evidentemente si sta concentrando gran parte del servizio di questa sera. Come ho detto all'inizio di questa trasmissione, l'aspetto psichiatrico è fondamentale perché il carcere è il luogo nel quale le patologie, anche chi non è affetto da queste patologie, si acutizzano e quindi evidentemente c'è disagio.